Allora, il tuo nome? Il mio nome è Lilli, vuoi salutare da qualcuno? Beh, insomma, salutiamo tutti quelli che ci conoscono perché con Chiasso Group facciamo veramente Chiasso, ma tanto. Allora, tu sei un collaboratore del Chiasso Group? Sì, collaboro da poco con Livio, grande amico e grande organizzatore. Abbiamo deciso di fondere insieme TN20 e Chiasso Group e questo è il risultato, insomma. E insomma, le tue prossime serate con Chiasso Group? Beh, le prossime sono tante. Abbiamo in servo una serie di sorprese molto belle, quindi continuate a seguirci e continuate a venire nelle nostre serate. Una piccola anticipazione, solo una? Piccola anticipazione, ci saranno anche dei concorsi nazionali di moda come pre-serata all'interno del Chiasso Group. Ok, noi ti ringraziamo, se vuoi fare un saluto? Ciao e continuate a seguirci. Ciao a te. Ciao!